Chi è la mia ragazza? Amore, sta sotto! La mia ragazza ha amore nel cuore, purezza negli occhi e menta pipirita nel sangue. Buon compleanno, tesoro. Signora North, mi dispiace molto per la sua famiglia. Abbiamo arrestato tre sospettati, ma sono tutti legati al cartello di Garcia. Nessun testimone è disposto a farsi avanti. Numero tre. Numero cinque. Numero quattro. Sono stati loro! È possibile che ciò che ricorda sia diverso da quello che è accaduto? Non ci sono prove sufficienti per trattenere gli imputati a processarli. Lei crede che otterrà giustizia? Che loro pagheranno? Cinque anni fa, Riley North è scomparsa. Svanita nel nulla. E che cosa avrebbe fatto in questi cinque anni? Addestramento. Oggi è il quinto anniversario dell'assassinio e della sua famiglia. È tornata. Giudici corrotti. Poliziotti venduti. Che voglio? Voglio giustizia. Non è un caso che in questa zona i crimini siano diminuiti. Il merito è suo. Almeno qualcuno sta facendo qualcosa. Trovatela. Non importa se dovrete bruciare la città. Guardare mentre ti portano via tutto quello che hai ti fa diventare un'altra persona. Senza uomini, senza armi. Come pensi che finirà tutto questo? Vi ucciderà uno dopo l'altro.